Innanzitutto auguri per il nuovo anno. Bene, iniziamo a definire come sarà il tempo per il fine settimana e per la prossima settimana. Bene, dal 29 al 31 farà bel tempo per la presenza di un'alta pressione che invaderà tutta la penisola, a parte delle nevicate sulle Alpi nella giornata di sabato. Nella notte di Capodanno piogge sul Levante Ligure e sul Veneto, freddo sul Nord Italia. Per la giornata di Capodanno piogge al centro-nord tranne le regioni di nord-ovest. Il giorno 2 piogge al sud, il 3 assenza di pioggia, il 4 ancora piogge al centro-sud, il 5 ancora assenza di pioggia, il 6 ancora piogge invece al centro-nord. Per quanto riguarda le nevicate, sì, ci saranno sole alpi tra il 3 e il 6 di gennaio. Le temperature saranno mediamente sotto la media, quindi freddo su tutto il centro-nord, tranne una breve parentesi tiepida tra il 31 e il 2 di gennaio. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.